L'idrogeno verde è al centro delle sfide per il futuro. Questa mattina nell'auditorium dell'autorità di sistema portuale del Marigoe orientale si è tenuto il convegno Green Hydrogen Gulf, esperienze, opportunità e progetti. Si sono affrontate le tante sfumature di questa tematica che può diventare davvero una sfida ma anche un'occasione per il comprensorio della Spezia e per il suo golfo. Noi questa mattina abbiamo lanciato questa idea e devo dire che sta dando proprio l'impressione da una parte della complessità per realizzare un'iniziativa di questo tipo ma dall'altra anche dalla volontà di poter andare in questa direzione. Riteniamo che il tema dell'energia verde, il tema della transizione ecologica in un golfo come questo potrebbe essere il modello di fattibilità di questi progetti. Vedo che la tecnologia sta lavorando intensamente. Quello che forse bisogna traguardare è che devono essere previsti dell'incentivazione da parte delle policy e in particolare anche tutta una parte di normativa e di regolamentazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'idrogeno. Il workshop è stata anche l'occasione per mettere uno davanti all'altro gli attori che ruotano attorno al mondo dell'idrogeno per questo è risultato anche essenziale il ruolo degli enti di ricerca. Sì, un sodalizio che è spesso auspicato, quello tra l'industria e l'accademia diciamo ed è un'occasione preziosa. È di prossima inaugurazione un laboratorio congiunto appunto che è finalizzato a promuovere lo sviluppo di una tecnologia di cialde elettrochimiche che sono finalizzate alla produzione di energia polluita e al contempo alla cattura dell'anidride carbonica che sappiamo essere un problema ambientale molto sentito oggi. La vostra azienda è un esempio di come l'idrogeno possa essere applicato su larga scala. Di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di depurazione dei fumi, dei gas di scarico dei motori navali e quindi da questo punto di vista, essendo legati alla sostenibilità dello shipping lavoriamo anche come implementare l'idrogeno come combustibile del futuro. La presenza di Enel Green Power a questo convegno ci incoraggia in questa fase di transizione tra il fossile e le rinnovabili e poi le energie a zero emissione di CO2. Se le cose che ha detto Enel Green Power sono condivise anche da Enel io credo che potrebbero esserci molti terreni di confronto prima ma anche di incontro e di soluzione di problemi che sono ormai annosi. Inel Green Power